e benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Frankland3 oggi siamo qui su gt5 per fare la missione, questa qui di Devin Weston come sempre raga, lasciate like, iscrivetevi perché raga, veramente giuro, che adesso se arriviamo a 110 iscritti, giuro, vi faccio vedere la mia scrivania un tour solo della mia scrivania, siamo a 103, raga, se arriviamo a 110 vi faccio vedere la mia scrivania appunto poi e ovviamente con gli andiamoci su gta adesso raga, chiamiamo il taxi e ci andiamo comunque, ok raga, è arrivato il taxi comunque raga, Michael è vestito così perché abbiamo appena finito di fare la missione quella blitz play, quindi ancora vestito così per la missione ma adesso non ci importa come è vestito Michael tanto, è un personaggio di gta, non è uno della vita reale vabbè ok, facciamo questa missione che no è una delle mie preferite questa missione saliamo sull'auto con Franklin siamo a Franklin giusto, sì siamo a Franklin si siamo a Franklin a posto adesso, arriviamo dove dobbiamo arrivare? qui e vabbè, se subito urtiamo la macchina oh raga, la vuolte sapere una cosa? io ho acceso gta e di normale ho acceso gta e ho detto mo registriamo e io raga ho aperto il menu per registrare e ho premuto play pensando di star registrando mentre stavo registrando ero già venuto per fare la missione lungo la missione l'avevo già conclusa e dicevo ragazzi per questo video è tutto come sono andato su youtube per pubblicarlo? il file non c'era quindi ho dovuto aprire il gta cancellare la missione questa qui che stiamo facendo adesso e riaprire di nuovo il menu spera e sperando di rifare sperando di sperando di rifare questa missione e sperando pure di registrare perché poi ho dovuto ricambiare i vestiti a Michael raga è un casino io ho premuto play però non compariva l'icona che stava registrando io ho detto vabbè sicuro stai registrando non me ne ho nemmeno accorto che non era l'icona me ne ho concentrato su gta 5 non me ne ho accorto avete capito raga? dopo ho sbattuto la capa al muro capitemi uno fa un video preme play cioè preme play però la registrazione non parte e io non me ne ho accorto e avevo fatto tutta sta missione quando ero andato su youtube per pubblicarlo file non trovato chiudo youtube riapro gta cambio i vestiti a Michael e rimetto quelli oh poi cancello questa missione qui che stiamo facendo adesso mi presento davanti la casa di Devin e riparto da zero capito raga è un casino oh ho sbagliato pulsante andiamo a rifare a fare la missione gareggiamo con le altre macchine questo video ho la vaga impressione che troverà quei scarsi 10 minuti eh sì vabbè raga manco il tempo di cominciare l'abilità speciale di Franklin sono lì li vedo vuol dire che almeno qua a bordo strada che così non girano macchine e adesso superiamo e rientriamo in macchina vuol dire rientriamo nella carreggiata questa missione infatti mi piace molto perfetto ok raga perfetto è peccato allora ok perfetto guardate come guardate come so passi in mezzo e urto e urto tutte le macchine e vabbè io con la tastiera non sono tanto pratico a giocare sono più bravo con il controller però essere onesti mi piace andare a prendere nell'altra stanza scendere la scala a prendere questo controller adesso siamo la polizia no raga non mi convince devo alzare un po' di più il volume audio ma va bene ok e raga inseguiamoli sono lì con le tre macchine gli davanti ok un grado vi lascio sempre il sondaggio se questa missione vi è piaciuta o meno no raga vi sempre gli stessi no vi è piaciuto l'inseguimento eccola che vi è piaciuto l'inseguimento della missione e poi raga metto il sondaggio riguardo a questa cosa raga quando andate nella i in alto che praticamente ci saranno due video precedenti i più precedenti e il sondaggio dovete cliccare su quello che volete dovete prendere nella i ci sono due video precedenti poi c'è il sondaggio e mi metterò vi sono piaciute queste missioni devo dire che sta in seguimento poi metterò bellissimo o non bellissimo voi dovete cliccare su una delle due questo video se dura 20 minuti ne mozzo scherzo raga prende parole per scherzare non lo dico più se e Oh, ok, stanno passando. So, sì. Wow, hey, resta in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I, uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys looked like you were drag racing from where we were, sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. 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 Is this entirely necessary? Yes, it is. Get down. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking house. Get out of the fucking house. Hey, hey, hey. Do me fucking car. All right. We got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. You, you little shit. Get the fuck out of here. God. Let's go to the garage at 9 kilometers. Oh, man. I'm sick of driving, so I'm supposed to be able to get out of here. Can't we have a real race? Ah. Oh, you talk a good game. Okay. Just don't scratch the car. Good. I can't smoke ending. That's a good game. I can't smoke ending. Ah. You're stupid. Oh, the lady from before. Devon's assistant. Good to be working with you. Ah. And I feel it. Ah. The lady from before. Devon's assistant. Hey, just spoke to Devin's man woman lawyer person I'll be waiting at Hayes Auto in South L.S. for you idiots to show up Yeah right I'm just so tardito Hey Frank, what did I tell you bro? These cars Ok Gonga raga, a 15 minuti stop il video Perché poi finisco la memoria del pc, finisco di giga E poi non posso più fare i video, quindi raga Eh vabbè Raga, vi devo dire una cosa Purtroppo questo video termina qui Perché Ovviamente raga io ho 30 giga sul pc E io faccio video ogni giorno, quindi Se li finisco non posso più fare video E ne giocare a GTA Quindi raga, purtroppo questo video termina qui Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi Ciao alla prossima